Lunedì 20 maggio, dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, O sete. Mi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, È compiuto. E chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua. Ieri si è concluso il cammino della Pasqua con la Pentecoste e ci suona un po' strano ascoltare questo Vangelo che ci riporta al Venerdì Santo, il momento della morte di Gesù sulla croce. Ma per volere di Papa Francesco, il giorno dopo Pentecoste, noi celebriamo la memoria di Maria, madre della Chiesa. E allora andiamo al punto zero, in cui la Chiesa è nata. La Chiesa è nata sotto la croce, in quel dialogo di Gesù, insieme a Giovanni e a Maria, dove gli affida l'uno all'altro, e la Chiesa è nata da quel cuore squarciato, dopo la morte di Gesù, da cui sono usciti sangue ed acqua. La Chiesa nasce lì, nasce nel dono del Figlio di Dio sulla croce, nasce nelle relazioni che lui ha fatto iniziare a partire da quel momento, nasce da quell'effusione dello Spirito Santo che l'Apostolo Giovanni ci racconta proprio in questo modo. E questo ci aiuta a comprendere che cos'è la Chiesa. La Chiesa è un insieme di relazioni, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, una relazione, una serie di relazioni che non nascono dal sangue, ma nascono dalla fede, in Gesù che è morto ed è risorto. Relazioni che nascono dalla sua parola, non dal nostro metterci d'accordo, non dai nostri gusti, non dal nostro modo di pensare e di ogire, ma a partire dalla fede in Lui. Lo Spirito Santo è capace di farci vedere delle relazioni profonde anche dove umanamente questo sarebbe impossibile o comunque che scarteremo tranquillamente senza tanti problemi. Ma nello stesso tempo la Chiesa nasce dal quel cuore squarciato, sangue ed acqua, il battesimo, l'Eucaristia. Quasi ricordarci che la nostra fede si fonda certo su una serie di relazioni, ma deve essere anche una fede che attinge continuamente per la propria vita personale e spirituale da quel cuore aperto, attraverso una vita vissuta alla luce del battesimo e attraverso l'Eucaristia condivisa e adorata nella Messa e nell'adorazione eucaristica. Ecco, lo Spirito Santo è il tempo della Chiesa e il tempo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo possa aiutarci veramente a vedere le relazioni che ci legano gli uni e gli altri a partire da quella fede che insieme professiamo e non dai nostri gusti e nello stesso tempo lo Spirito Santo ci faccia attingere ogni giorno dal cuore di Gesù per crescere nella nostra fede.